L'Ital Volley maschile torna sul tetto del mondo dopo 24 anni, un risultato storico centrato dalla nuova generazione d'oro azzurra. Daniele Lavia, Alessandro Michelotto, Iuri Romano sono gli autentici trascinatori della squadra di coach Fefe De Giorgi che batte 3-1 la Polonia in rimonta e trionfa. Infatti dopo aver perso il primo set 22-25 i campioni d'Europa reagiscono prendendosi gli altri 3-7 con i seguenti punteggi 25-21, 25-18, 25-20 per l'Italia si tratta del quarto titolo mondiale. Un traguardo straordinario dunque per centrare questo storico successo alla guida della nazionale di pallavolo maschile italiana serviva un uomo della generazione d'oro, quella dei tre titoli mondiali consecutivi 1990, 1994, 1996. Parliamo di mister Fefe De Giorgi nella caldissima Cato Weiss con un autentico tifo da stadio per i padroni di casa giustizieri del Brasile in semifinale. Gli azzurri partono bene.